ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR finalmente ho preso una pausa perchè sono successo un po' di cose e quando ci sono novità nella mia vita io ho sempre bisogno di un attimo di tempo per stabilizzarmi il che non è ancora successo però ok va bene cose sia o a raffreddore allora in questo video ho deciso di rispondere alle domande che vi ho chiesto di farmi una settimana e mezza fa un po' su Instagram e un po' su YouTube e in parte vi faccio qualche suonino una cosa così allora iniziamo da questo video e si iniziamo da quello di YouTube Stef Lalu chiede siamo soli nell'universo secondo me non lo so partiamo da un po' suonino ma partiamo da questo presupposto però nell'universo secondo me è possibile che ci siano altre forme di vita io non parlo di alieni con le tendine e le astronavi e le navi e le navi spaziali però che ci siano altre forme di video che ci siano altre forme di vita possibile in realtà non ho le idee molto chiare sto studiando per alcuni test in realtà non ho ancora iniziato a fare eseggi in realtà ho appena comprato i libri per provare a fare qualche test quest'anno non saprei cosa risponderti perché ho delle idee sicuramente anche più artistico rispetto a quello scientifico però ancora nello specifico c'è un po' lì dei confusini ecco poi adoro il tapping sul primo volume sui altri nombrano sul primo volume Black Battler sì poi eschere eschere oddio non andavo d'accordo se avessi la possibilità se avessi la possibilità di passare una giornata con chiunque tu vuoi e chi sceglieresti in quali posti vorresti vivere in futuro io già poi non faccio l'esempio non vero ma grazie mille allora se avessi la possibilità di passare una giornata con chiunque allora non saprei cioè non ho un nome specifico però come un attore come un attore di oli o qualsiasi e vedere una giornata tipo subset come sono curiosa non lo so poi in quale posto vorresti vivere in futuro allora ci sono tanti posti che mi piacciono anche a me piace moltissimo il Giappone però viverci se è abbastanza complicato è comunque difficile ecco proprio anche psicologicamente eccetera eccetera a parte la barriera linguistica eccetera però vabbè l'Inghilterra in realtà l'America in generale però non so se cioè non ho l'idea di restare a vivere in Italia dipende anche da quello che accadrà in futuro sperando siano cose belle ok poi Ronnie Beba mi chiede qual è stato il mio primo cosplay questa domanda non c'è risposta perché è stata una versione barbillissima di tu che in realtà l'avevo fatto insieme anche al cosplay di Canigli che avevo fatto in contemporanea bruttissimi tutti e due non ci sono prove non esistono più poi poi passiamo a quelle di Instagram perché si Samuele Gretti mi dice che qualcuno ha ricaricato un mio video su un altro canale poi andrò a vedere grazie mille anche se non so esattamente cosa fare in questi casi allora su Instagram Giada Musso mi chiede i tuoi compagni ti prendono in giro per il canale se si come la prendi allora i miei compagni non sanno del canale a parte tu mi hanno anche te loro cioè a una non mi piacciono gli smr quindi non è che mi segue però lo sa non mi metterò quella l'altra ma pure cioè non dicono niente ciao tra l'altro soprattutto Maria se ti sei già fatta venire l'orticaria grazie e comunque potrebbero prendermi in giro alcune probabilmente sì però non è una cosa che ho intenzione di dire manca ancora una come la prenderei sicuramente mi darebbe fastidio però che devo fare non è una cosa che fanno tutti e si sono queste pacche che sto giocando con questa e che magari non tutti possono capire ma mi capita che non sia sempre tutti d'accordo e che cavolo e mi si spegne ho portato questo qua perché mi avete detto che è un bellissimo rumore e io sono d'accordo illuminante ok mi è caduto lo vediamo sto vedendo ma è abbastanza no ho il dito sprello cicoso poi funky ghost mi chiede cosa ne pensi delle ragazze che fanno cosplay di personaggi maschili io sono una di quelle quindi niente secondo me ognuno può fare quello che mi pare soprattutto in queste cose non cambia la vita nessuno se io faccio cospi di personaggi maschile o femminile quindi anzi spesso mi capita di sentirmi in maggio con certi personaggi penso che io li piuttosto che femminili perché in generale non è che sono tutta questa grande femminilità soprattutto nel fisico sono un po' un po' fisico un po' androgeno ecco quindi qualche volta non mi sento nemmeno a mio agio con personaggi c'è un cosplay che magari mettono molto mostrare le forme poi non in tutti i casi in alcuni casi no però ecco questo è quanto così come i ragazzi vogliono fare i cosplay di personaggi femminili in realtà è come fare il drag quindi benvenuti nel mio mondo sì il cosplay questo è è anche un bel modo per mettersi alla prova secondo me quindi non ho niente da dire sono conteggiata non sono contraria anzi e sono l'esempio quindi Finky Ghost mi chiede sempre qual è il mio cosplayer preferito allora in realtà io non ho una fissa per cosplayer sono spesso persone soprattutto su tiktok ragazzi su tiktok cioè tu vedi delle cose che sono tipo che ti senti proprio una una cacchina in confronto però ok e ci sono delle però non è solito un cosplayer preferito con una cosplayer preferita non saprei dire più non saprei dire poi sempre la stessa persona mi chiede l'errore più grande l'errore più grande che tu possa aver commesso in un tuo cosplay quello di non cucire pezzi oppure di non aver voglia di mettere un bottone quindi fare nodi strani ecco non dovete essere troppo pigli perché sennò poi le cose infine vi si distruggono e poi 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 ultima domanda che mi fa sempre la stessa persona cosa ne pensi di estere l'ipofago estere l'ipofago io la sicuro la trovo molto carina molto brava non penso di chi non l'ho mai conosciuta non ho mai avuto il piacere di conoscerla dal vivo anche se è video però certo sicuramente mi è piacere conoscerla la seguo anche su youtube è molto carina mi piacciono molto i suoi video cosa ti rende felice mi chiede Mattia Montesardo allora mi rende felice stare con le persone a cui voglio bene che spero mi vogliono bene a loro volta che non si sa mai con gli amici famiglia eccetera eccetera e fare cosplay in generale fare le cose che mi piacciono guardare le serie tv guardare film mi piace guardare gli horror in particolare con mio padre c'è proprio la persona horror papà e giocare ai videogiochi in realtà in questo periodo sto giocando molto meno per diversi motivi però anche quello quali sono i tuoi hobby mi chiede Fiore insomiglietta più o meno li ho già detti poi cosplayer preferito ancora ci sono tanti cosplayer bravi che ti lasciano tipo a ok shop oppure a cross oppure da un sacco di gente com'è che si chiamano c'è un gruppo cosplay di videogioco che si chiama di vacana di americani mi pare non mi ricordo i nomi però uno è il nick che inizia con j qualcosa niente andate su tiktok a scoprire il tuo mondo poi aspetta che hanno voglia di c'è che non voglio ok poi Silvia mi chiede qual è il cosplay più bello che hai mai realizzato qual è quello più brutto i più brutti sono tra i primi oppure in realtà ci sono magari dei cosplay che di base non sono brutti però un giorno mi vedo male io è molto soggettivo dipende da tanti fattori un po' da quanto sei nel fandom un po' da quanto ti piace e per sangio quindi da quanto impegni ci vuoi mettere nel realizzarlo un po' dal tempo soldi che hai per farlo quindi nello specifico il più brutto sono sicuramente i primi che ho fatto anche se poi alcuni li ho ripresi e adesso fanno molto meglio poi mentre il più bello oddio anche lì mi piace molto come è uscito in casa perché anche il trucco sono molto soddisfatta in realtà l'ultima volta l'ho provata tanto tempo fa ma anche Aul nonostante sia molto semplice mi piace molto come è uscito poi anche la versione villain di Todoroki mi piace come è uscito mi ci vedo bene come una faust di Deacana insomma ho delle soddisfazioni però vado a periodi periodi poi NickyUltimate mi chiede gli ultimi cosplay di vari elfi gli angeli e demoni li hai pensati tu sono molto belli e particolari grazie Sire magari vi metto qualche immagine per farvi capire di cosa si sta parlando perché sono un foto che ho postato su Instagram allora l'elfo adesso che ci penso non è che mi faccia tanto impazzire l'angelo e il demone sì in realtà è un po' il mood generale sono un po' molto nel fandom di Goodwin e non ho nulla a che fare in realtà con gli angeli e demoni di Goodwin però e quindi nulla ho deciso di provare a fare un mio angelo un mio cosa di piace del tuo corpo allora in questo periodo non ho passato un bel periodo per diversi motivi però gli occhi mi piacciono il colore per la forma è tutto dipendita come mi sveglio e poi non lo so alla prossima next next e niente con questo video è tutto spero stiate passando delle buone vacanze anche se magari siete partiti eccetera riposatevi comunque neanche io sono partita in realtà ci ho provato ma ne ho facevo quindi sono tornata a casa storie di vita e quindi quindi niente fatemi sapere se c'è qualche roleplay in particolare che vi piacerebbe vedere ci vediamo nel prossimo video ciao